Ah raga, hiper remake del video più pericoloso dell'anno scorso, di Jackass 1, il Jackass numero 44, pronti, partenza, via! Anche te, anch'io, anch'io! Anche Anthony! Oh lo voglio fare anch'io allora! E' vera me l'ha mancato! Vai! Vai tocca a te! Poi filma me, poi filma me! Vabbè prima devo filmare lui! No non ce la faccio questa strada qua! Vai! Vai vai! Via Vincenzo! Via Vincenzo! Come cazzo fai stare nei equilibri di bocetta! Uno, due, tre! Ah non ce la faccio, ti ho finito i tappogorsi! Dai tocca a me! Vai vai vai! Eh non ce la faccio, ti ho finito i tappogorsi! E allora? Allora mi firmo il pisello! Ah! Ho finito i tappogorsi! Aiuto! Mi si figlia! Dai finito! E qui stop stop! Ne facciamo un altro!